buongiorno a tutte ea tutti allora oggi l'idea che proveremo a raccontare un'idea di spessore è questa è la prima questione che dobbiamo ricordarci perché vedete questa è una zolla adesso facciamo partire le slide questa è una zolla ed è terra va bene quindi è ciò che ci tiene in vita eccolo qui vedete prima cosa che voglio subito che 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 rimanga nella nostra testa che il suolo che noi di solito vediamo che purtroppo è questo vedete che è superficie questa è una bellissima immagine tratta da un film meraviglioso che è quello di francesco rosi le mani sulla città dove noi immaginiamo che sia semplicemente una squallida estensione di terreno il suolo invece il suolo è spessore e molto spesso e poca roba 30 centimetri sono 30 centimetri qui dentro c'è tutto quello di cui ne abbiamo bisogno pensate è nulla 30 centimetri se ci pensate rispetto al nostro mondo dove noi viviamo noi viviamo della biosfera sono 10 chilometri sotto la crosta terrestre 10 chilometri sopra la crosta terrestre è lì che noi viviamo non lo sappiamo ma è lì si chiama la biosfera sono 20 chilometri 30 centimetri rispetto a 20 chilometri sono lo 0,0015 per cento nuve polvere allora questo ci fa capire come questa idea di spessore sia un'idea fragile sia fragilissima perché il suolo è straordinariamente poca roba ed è fatto così ecco questa è un'altra immagine che mi piace che vi rimanga in mente perché il suolo ingrandito questo suolo che vedete quasi l'ingrandisse microscopio è questo è fatto di stanze cavità e dentro queste stanze queste cavità cosa troviamo troviamo stanze nutritive troviamo acqua troviamo minerali troviamo tutto quello di cui la vegetazione ha bisogno noi vediamo la vegetazione ci piace verde fantastica prati alberi arbusti ma il 90 per cento di questi prati alberi arbusti non esisterebbe senza suolo e senza coloro che sono i protagonisti del suolo il suolo è quei 30 centimetri sono il luogo più affollato che abbiamo sul pianeta 1.5 chili di vita ogni metro quadro batteri 9 miliardi di unità di vita in solo un paio di grammi in un cucchiaino ci sono più batteri in un cucchiaino di suolo sano che non abitanti su tutta la terra e poi dopo di che il suolo è come vedete guardate qualche folla funghi alghe artropodi nematodi tardigredi un mondo che mangia cellulosa e produce sostanza organica va bene e che è una catena di vita continua infatti ci piace molto chiamare il suolo ecosistema non risorsa non capitale naturale disastro quando chiamiamo il suolo capitale naturale perché perché capitale sempre qualcosa che possiamo consumare comprare usare e anche risorsa e ci sono le risorse petrolifere che noi vogliamo usare e consumare allora chiamiamolo ecosistema diamogli come dire la giusta parola perché lui è un luogo dove vivono abitano milioni di esseri viventi che concorrono a generare quello che il suolo fa vedete e soprattutto pensate come esiste l'atmosfera nei primi centimetri proprio stiamo parlando dei primi 15 20 centimetri esiste un'altra atmosfera che pochi in pochi conoscono che si chiama rizosfera rizzo è radice in greco e quindi è il luogo dove sono le radici ma non solo le radici perché prima quando vedevate tutti quelle quell'istogramma con tutte quella vita i batteri ci sono dei batteri chiamano rizobatteri che vivono appiccicati agli apici radicali perché dovete sapere che le piante non sono in grado di assorbire azote fosforo da sole come noi non siamo in grado di assorbire ferro dagli spinaci sapete perché ci manca una proteina e anche le piante manca una proteina che poi è una cellula che hanno questi batteri loro riescono a trasferire azote fosforo alle piante insieme ai funghi e quindi se le piante non avessero fatto questa accordo simbiotico una parola meravigliosa simbiosi non avessero fatto questo accordo con i batteri e con i funghi non ci sarebbero piante pensate che cose e questi vivono tutti qua questo è l'intestino esterno delle piante e poi ci sono i funghi i funghi micorrisici sono funghi filamenti da bene lunghissimi che vivono in questi pochi centimetri di suolo anche fino a un metro guardate incapsulano proprio gli apici radicali e poi sono dei filamenti come delle ragnatele che riescono ad arrivare in quelle piccole buchini quelle piccole stanze di suolo che vi ho fatto vedere prima che sono più piccole delle più piccole radici fino a 50 volte più piccoli le radici non riuscirebbero andare a catturare le stanze organiche che ci sono nel suolo se non ci fossero loro le piante non avrebbero possibilità e perché non riescono a prendere come dire tutta stanza organica di cui hanno bisogno b perché non riescono ad arrivarci proprio nel suolo e poi succede un'altra cosa importante i funghi non fanno fotosintesi ma sono la loro materia è carbonio sono fatti di carbonio dove lo prendono questo carbonio dalle piante le piante nella loro fotosintesi clorofiliana catturano co2 dall'atmosfera c'è due sapete che un gas prima alterante terribile lo catturano dall'atmosfera catturano l'acqua dal terreno pensate che fatica co2 dall'atmosfera acqua dal terreno portano tutto nelle foglie spaccano tutto grazie all'energia solare producono glucosio c6 h 12 o 6 il 40 per cento di questo glucosio sapete cosa ne fanno non fanno la pesca la foglia se stessi no lo mandano giù nel suolo lo mandano giù nel suolo e lo cedono ai funghi batteri in cambio di azoto e fosforo il fosforo che noi abbiamo in corpo tutto il fosforo che noi abbiamo in corpo arriva dalle piante il 100 per cento del fosforo che le piante hanno dentro di loro arriva dai funghi microridici quindi arriva da questo mondo del suolo le nostre ossa sono fatte di fosforo non esisterebbero se non esistesse il suolo e quindi incapsulando anivide carbonica nel terreno il suolo è il più grande regolatore climatico che noi abbiamo sulla terra dopo gli oceani e lui è che sequestra il carbonio e lo tiene lì per sempre non sono le piante come ci fanno credere le piante sono di passaggio 80 100 anni il suolo è 5000 anni wow è lui il regolatore climatico sono quei 30 centimetri è questa idea di spessore e poi c'è questo tema biodiversità ah ma signori ma senza biodiversità un virus ci fa fuori tutti e la biodiversità è il più grande vaccino che noi abbiamo per resistere a tutto e la biodiversità dovremmo cullarcela coccularcela da morire il 30 per cento della biodiversità è appena nei primi 30 centimetri di suolo non c'è luogo al mondo che ha più biodiversità del suolo mangiamo col suolo 95 per cento di tutto quello che noi mangiamo arriva da quei pochi centimetri il 99 per cento delle calorie che noi assumiamo arriva da quei pochi centimetri tutte cose di cui abbiamo bisogno di raccontare di far capire di dargli voce l'acqua fondamentale il suolo permeabile a sinistra trattiene 50 gocce delle 100 che cadono solo 10 rimangono in superficie appena ci spostiamo a destra dove le cose peggiorano sempre cosa abbiamo l'urbanizzato l'urbanizzato impermeabile di conseguenza poca acqua rimane infiltrata molta rimane in superficie e poi ci lamentiamo delle alluvioni ma siamo noi a produrre questa cosa perché neghiamo il suolo la sua capacità di trattenere l'acqua questo è un po il quadro si chiamano servizi ecosistemici del suolo tutto quello che la terra fa per noi che questo spessore fa per noi gratuitamente tutti i giorni tutte le notti ma ma noi ma ci siamo noi mannaggia ci siamo noi ci siamo noi a non capire anche che il suolo non è un un ecosistema rinnovabile non lo è perché guardate questa è la sua dinamica di vita duemila anni dieci centimetri e non è rinnovabile non è resiliente ci piace molto questa parola quindi è una è una è un ecosistema da trattare coi guanti con cura anzi da non consumare proprio e invece e invece la peggior cosa che noi facciamo è questa è dividere lui ecosistema che lì sotto dall'ecosistema che sopra la vegetazione li dividiamo gli mettiamo sopra un setto di cemento l'urbanistica è diventata oggi un motore d'oggi lo è sempre stato ma incredibilmente anche dopo covid ha aumentata la sua foga cementizia questi sono dei dati su cui noi lavoriamo pensate nell'ultimo anno in italia 7 mila ettari completamente cementificati l'anno precedente 6.400 l'anno precedente ancora 5.000 è incredibile questa cosa e poi c'è l'agricoltura l'agricoltura che anche lei inquina i suoli l'agricoltura convenzionale industriale di cui la penura padana è piena mezzo chilo di pesticidi a capa a testa vanno nei suoli agricoli il 70 per cento di un gas terribile il 70 per cento di questo gas che si chiama n2o è prodotto dall'eccesso di azoto che va nei campi quindi dall'agricoltura la zootecnia che è un disastro dal punto di vista del bilancio energetico pensate il 70 per cento dei campi nel mondo produce alimenti per animali da qui ne prendiamo solamente il 18 per cento delle calorie come prendere una stufa e accenderla e metterla nel bosco noi facciamo questo e disastrosamente inquiniamo suoli qui c'è molto da cambiare per diventare sostenibili le plastiche sapete che c'è più plastica nei suoli che in mare e dire che il mare sono tre quarti del pianeta eppure c'è più plastica nei suoli perché perché oggi l'agricoltura è fatta di plastica solamente in italia 372 mila tonnellate di plastica ogni anno passano sulle terre e un po ci rimane questo è un tema poco noto e poi ci sono le guerre maledette guerre queste immagini ci sono le guerre maledette a questo piccolo popolo e a destra c'è quello che viene fatto oltre il disastro delle morti i carromati che passano come a far la barba a tutti i campi agricoli a distruggerli a non dare più futuro e anche questi sono suoli disastrosamente ogni guerra in ucraina e ovunque nel mondo distrugge suoli agricoli inquina suoli agricoli il futuro di quelle popolazioni è negato che fare torniamo da noi beh bisogna affermare il consumo di suolo questo è chiaro bisogna affermare tutto ciò che aggredisce il suolo è dura perché quello che aggredisce il suolo fa parte della nostra comodità del nostro modello di sviluppo maledetto quindi questo bisogna farlo ma non solo questo bisogna lavorare la depavimentazione tutti quelli che possono depavimentare devono depavimentare tutti i sindaci devono mettersi in testa che questo è il loro obiettivo depavimentare liberare il suolo che l'abbiamo imprigionato liberarlo ridargli vita ridargli lo spessore che merita dal punto di vista urbanistico sono professori di urbanistica bisogna anche liberare come dire i nostri piani urbanistici dalle pretese che hanno di continuare a consumare suolo perché quei 7 mila ettari che vi ho fatto vedere prima non arrivano non piovono dal cielo piovono da noi noi pensiamo continuamente cemento siamo intrappolati in questa macchina bisogna trovare anche i modi bisogna dirlo ai sindaci chiedete per favore una legge per estinguere tutte quelle che sono le promesse di consumo di suolo che non possono non possono mai attuarsi non devono attuarsi e poi siamo troppi troppi a decidere su una un ecosistema non c'è nessun sindaco che in grado di fermare un'ape al suo confine dico sempre io non ce n'è uno e quindi non ha senso che decida lui sul suolo dopodiché bisogna lavorare bisogna studiare bisogna fare tanti ted come questo tantissimi per dare voce al suolo per dare voce a ciò che voce non ha lui non ha voce quindi o a noi con la cazzuola o a noi che gli diamo voce noi vogliamo dargli voce eccoci qua va bene quindi bisogna dare voce un incessante lavoro culturale e poi chi decide oggi come fa a decidere senza sapere cos'è il suolo cos'è un'ape cos'è un fiore cos'è un cespuglio come si come possibile non è possibile ecco che allora noi abbiamo bisogno di immaginare che chi decide chi ha l'onore di decidere per tutti debba se deve conoscere le basi dell'ecologia se no è un disastro mi fermo con due appelli uno è un appello a tutti voi venite dalla parte del suolo venite dalla parte di questa idea di spessore lasciamo perdere le questioni superficiali va bene venite da questa parte parlate di suolo dite oggi abbiamo sentito suolo domani parliamo di suolo e poi finisco con questa grande frase di una donna meravigliosa che ha scritto un libro che dobbiamo leggere tutti che è margretti orsenar è nessuno ha diritto di trattare la terra mi subruzziamo domani grazie